Matchboard per la Tourist nell'imminente incontro interno contro il Bari. Dopo aver usufruito del bonus Covid concesso dalla Lega nell'ultimo turno di campionato, che vedeva la squadra impegnata contro la Cavese e rinviato per l'eveggenza che ha colpito il gruppo squadra, i Coralini hanno ora la possibilità di centrare matematicamente la salvezza con due giornate di anticipo, se batteranno la squadra puiese nell'incontro in programma a Liguri domenica alle 17.30. Dopo i risultati di domenica scorso la Tourist è ora in zona play-out con la Vibonese che ha momentaneamente aggaggiato i Coralini, ma i 16 punti di vantaggio sulla Cavese sono un margine ampiamente rassicurante, visto che da regolamento se ci sono almeno 9 punti tra le squadre coinvolte negli spareggi di retrocessione, mancano 3 partiti alla fine del campionato, questi non saranno disputati e sarà salvezza. Anche un eventuale aggancio della Paganese, ora distante 5 punti ma con una partita in più, sarebbe scongiurato. Gli uomini di Caneano quindi il destino nelle proprie mani e raggiungere la salvezza in anticipo permetterà alla società di iniziare a pensare alla prossima stagione con più serenità e con l'esperienza acquisita in questo primo anno tra i professionisti dopo quasi 20 anni di assenza. La partita contro il Bari sarà diretta da Vigile di Cosenza, assistenti Buonocore di Marsala e Testi di Livorno, quarto uomo Moriconi della sezione Roma 2.